spesso quando si pensa ai rally o alle corse automobilistiche in generale vengono in mente automobili sportive o modificate per arrivare a delle prestazioni perfette in una determinata tipologia di strada non è il caso della garbage run un viaggio di cinque giorni attraverso le strade europee a bordo però di auto rottame che proprio nella serata di giovedì 15 giugno ha fatto una tappa cremona al camping park al po le vetture molte di queste truccate con firme adesivi e colori sgargianti devono rispettare delle regole ben precise la gara si chiama garbage run non a caso infatti il termine garbage è una fusione delle parole car macchina e garbage immondizia quindi abbiamo solo macchine del valore di 500 euro e che hanno un minimo 20 anni si guida 2500 chilometri in giro per l'europa partenza dalla francia poi svizzera ligtestein austria slovenia e poi italia finito il giro si torna in francia il concept è nato in olanda nel 2009 per il campeggio è stata l'occasione di lavorare e confrontarsi con un turismo particolare ho 180 equipaggi che sono partiti dalla francia l'obiettivo della gara è quello di fare di percorrere 6 stati in cinque giorni quindi con una media di circa 500 chilometri al giorno e il totale delle persone che praticamente trascorrerà la notte al campeggio è di 420 e anche per noi è stata una bella occasione un po' per metterci alla prova sia diciamo così sull'ospitalità diversa decisamente diversa